Buongiorno a tutti, io sono Sean, questo è il mio canale Salt che parla di sport e qualsiasi argomento interessante e gustoso. Stamattina siamo a Apice, il piccolo paese del Beneventano colpito da un terremoto negli anni Ottanta e abbandonato sin da allora e questo posto è diventato una gigantesca capsula del tempo, il tempo si è fermato al dopo terremoto. Come potete vedere parte del paese è diventato paese fantasma. Questo è l'interno di una delle abitazioni ormai abbandonate. Grazie. 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 Questo è uno dei ristorantini di Apice, è molto molto grazioso, si chiama La Cantinella e la struttura è stata ristrutturata dal comune e poi data in gestione al ristorante. Proprio per mantenere una vita e una funzione turistica. Davvero molto bella la sala dentro. Qui l'intera palazzina è stata ingabbiata. Cosa c'è nel baule? Cosa c'è nel baule? Questa deve essere la cantina di una casa dove tenevano gli animali. c'è ancora la traccia di qualche gabbie... Arrivederci da Apice. Se vi è piaciuto il video, per piacere iscrivetevi al canale. ... ... ...